Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Prudenza per vento forte in A11 tra Firenze Ovest e Pistoia e in Fipili tra Firenze e Gello. Per la canteristica in A1 direttissima, questa notte in orario 22.6 sarà chiuso il tratto compreso tra Aglio e La Quercia verso Bologna. Contestualmente sono chiuse anche le entrate di Firenzu alla Badia in direzione Bologna. Barberino regolarmente aperta in entrata verso Bologna con deviazione su panoramica al chilometro 256.7. In A11 sempre... Grazie a tutti!